Io conosco Matteo Renzi da Firenze, eravamo entrambi, facevamo parte della Margherita, il partito della Margherita, prima che questa confluisse nel quello che poi è diventato il partito democratico, quindi lo conoscevo prima ancora che diventasse presidente della provincia, anzi che io ho aiutato a farlo eleggere presidente della provincia e così via, quindi ci conosciamo molto bene, poi le strade si sono un po' divise perché io al partito democratico non ho aderito e ho scritto questo, dico guarda Matteo, caro presidente, caro Matteo, che il capitolo che riguarda il governo contiene anche delle critiche sull'operato, ma considera prendere come uno stimolo, uno stimolo a far meglio a fare di più, perché hai la capacità, il dinamismo, l'intelligenza, anche un po' di spregiudicatezza, un po' l'arroganza, ecco, per fare molto di più e diventare un grande fiorentino come quelli del passato. Però tu l'hai anche bollato come presuntuoso, impertinente. Infatti l'ho ripetuto ora, io credo che queste siano le sue caratteristiche personali, e poi però ci sono tanti aspetti positivi, questo suo dinamismo, questa sua capacità. Oggi lui ha una grande capacità di interlocuzione, parla molto bene, molto facilmente e quindi tende anche a essere molto convincente. Io però vorrei che lui effettivamente avesse per l'Italia un disegno complessivo, una visione strategica di dove portare l'Italia domani. Grazie per la visione!